La città italiana meno cara per i prodotti alimentari? Siena. Lo dicono i dati resi noti dall'Istat sull'inflazione di aprile, sulla base dei quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni che hanno registrato i maggiori rincari annui per quanto riguarda i soli prodotti alimentari. Il dato dell'inflazione generale è comunque falsato dall'effetto coronavirus, smette il calo della voce trasporti, meno 2,5% in media nazionale non produce alcuna riduzione di spesa reale per le famiglie costrette a stare a casa dal lockdown. Il rialzo dei prodotti alimentari, più 2,8% in media nazionale, produce una maggiore spesa di 155 euro per una famiglia media, 213 per una coppia con due figli, 187 per una coppia con un figlio. Ecco perché l'Unione Nazionale Consumatore non ha stilato l'ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita complessivo, ma eccezionalmente quella dei maggiori rincari registrati per gli acquisti alimentari. L'unica voce che durante l'emergenza coronavirus non ha subito riduzioni delle vendite. Inoltre è proprio su questa divisione che si sono registrate le maggiori speculazioni sui prezzi, tanto che l'Antitrust ha avviato un'indagine pre-istruttoria sull'andamento dei prezzi di genere alimentari di prima necessità, oltre che su detergenti, disinfettanti e guanti, basandosi proprio sui dati Istat emersi a marzo. Ebbene, la città con i maggiori rincari alimentari è Caltanissetta, più 5,7%, su base annua, più del doppio rispetto alla media italiana, pari a più 2,8%. Al secondo posto Trieste e al terzo Palermo. Le più virtuose Siena, più 0,6%, seguita da Macerata. Arezzo e Pistoia, entrambe a più 1,4%.